Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Allora, Giuseppe fa parte della community di Odoo Italia dall'inizio, praticamente da quando l'ho scoperta io, l'hai scoperta tu, poi da lì è nato un percorso. E poi ci siamo scoperti. Ok, questa è un'altra storia. Per cui, diciamo, fa parte e ha dato il suo contributo in numerose occasioni per quanto riguarda sempre la community di Odoo Italia. Oggi viene in rappresentanza di Apulia Software e ci parlerà di un progetto di ricerca e sviluppo che si chiama Odoo Smart Accountant. Buon lavoro. Perché si è svelato tutto? Perché si è scritto Odoo Italia? Va bene, io vorrei iniziare prima di tutto con una domanda leggermente tecnica. Quanti di voi hanno sofferto la dipartita di Accounting Boys, alzassero la mano? Anche tu? Andiamo bene, andiamo bene. Ok. Va bene. Non è andata malissimo, insomma. Va bene. Pensavo peggio. In realtà, in Apulia Software è stato un vero e proprio lutto. Allora, io avevo il bravo Cirurselli, che camminava nei corridoi e faceva, dobbiamo riscrivere tutto, dobbiamo riscrivere tutto. Dall'altro lato si incrociava col suo simbiotico, che è Andrea Cometa, che diceva, non ce lo pagheranno mai, non ce lo pagheranno mai. Si è aggiunta anche Valeria, che ha smesso di comprare i cioccolatini col caffè, non so se qualcuno di voi si ricorda. Mi serviva un'idea. A quel punto ho perso la riga. Tu mi suggerisci di mettermi su una riga, ma io ancora più dietro. Ok, chissà se vedo, però. A quel punto mi serviva una soluzione. Per fortuna, in quei giorni ho guardato un film e mi piacerebbe riuscire a... Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Toro dice, molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così. Bravo, Frischi. Grazie. Sì. Osate cambiare. Cercate nuove strade. Allora, in aggiunta agli esercizi, vorrei che componeste una poesia. Tutta vostra, un lavoro originale. Sì, una poesia. E dovrete leggerla ad alta voce di fronte alla classe. Martedì. Buon chance, giovanotti. Bello. Ah, senta, Henderson. Non creda che non sappia che questo compito le fa una paura del diavolo, vecchia talpa. Osate cambiare. Provate ad avere nuovi punti di vista. Era un modo che mi serviva per cercare di cambiare l'umore e riuscire a superare un evento abbastanza traumatico in azienda. Ora, l'idea di salire sulla scrivania, e poi dietro di me Andrea mi dava la certezza che la scrivania sarebbe crollata. Quindi abbiamo fatto un po' all'italiana. Siamo andati di spritz, magari rinforzato col doppio prosecco. Per sancarci, prima ce ne siamo andati, come potete vedere, in mezzo al mare, a remare contro vento. E poi, pieni nello stomaco di vino e cozze, abbiamo iniziato a pensare ed eravamo pronti per fare quel salto nel buio che vedete. In quella condizione qualcuno tira fuori una frase di questo tipo. Ci serve un'idea tale per cui, io la traduco più facilmente, anche la contabilità di Odoo sia sexy. Se ci ragionate, la maggior parte di voi difficilmente ha ricevuto una telefonata in cui l'argomento principale è voglio utilizzare Odoo perché con la sua contabilità faccio il salto di qualità. Odoo ci vende come sexy l'importazione del PDF, delle fatture. Ma noi abbiamo le fatturazioni elettroniche, per cui tecnicamente quella è già una cosa superata. Quindi ci serve un'idea che stimoli l'utente amministrativo di un'azienda a cercare Odoo piuttosto che subirlo perché necessario per altre funzionalità. Abbiamo aggiunto poi che questa idea deve essere potenzialmente indipendente dall'istanza del cliente. Abbiamo già due versioni, Comunity Enterprise. Già lì dobbiamo renderci il massimo compatibile e sappiamo che almeno in teoria non esiste la contabilità sulla versione Comunity. Ancora una volta non deve essere un semplice modulo ma un'idea, un'intera soluzione tale per cui un utente si senta fortemente stimolato a utilizzare i moduli e le funzionalità contabili. Passa? Ok. Ah, ci hanno fatto i due di giro, va bene. Ovviamente la soluzione non deve essere strettamente legata né alla localizzazione di Odoo e anche in parte anche se come dire nella nostra idea c'è una completa interazione tra la Comunity e quella che dovrebbe essere questa nuova funzionalità uno scambio di esperienze e informazioni tali per cui non si è strettamente legati alla localizzazione a quelle che sono le problematiche fiscali della singola azienda e anche in alcuni casi dalla singola fascia di mercato e i tempi sono lunghi ovviamente non deve essere un servizio qui ci mettono un bel po' per uscire ovviamente non deve essere un semplice servizio abbiamo già il nostro sistema di fatturazione elettronica altri di voi hanno altri sistemi di comunicazione interfaccia servizi diversi che comprano a pagamento e via dicendo ma non è questo l'obiettivo ancora una volta è far sì così come il CRM l'e-commerce la produzione la gestione dei progetti sono di per sé funzionalità che attrirono utente riuscire a ottenere lo stesso risultato anche con le funzionalità contabili del sistema da questi pensieri veramente tirati fuori con i fumi dell'alcol siamo riusciti in Apulia Software ad ottenere un progetto di ricerca e sviluppo in questo momento in corso su Odoo 16 Enterprise il valore del progetto è di circa mezzo milione di euro è cofinanziato dal consorzio Meditech che ha credo all'interno otto o dieci Atenei Apulia Software ne è capofila affiancata da Flowpay che è un'azienda FinTech ed è una delle poche aziende italiane specializzate nell'open banking ed è una delle poche aziende italiane riconosciute da Banche d'Italia come istituto di pagamento siamo in questo percorso affiancati dalla facoltà di ingegneria gestionale dell'università del Salento e dalla facoltà di economia e commercio dell'università di Bari quali sono i macro obiettivi del progetto di ricerca che si sviluppa per l'intero 2023 dotare o do di una integrazione open banking autorizzata e certificata dalla Banca d'Italia applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale alle funzionalità di riconciliazione e di generazione delle registrazioni di prima nota voglio esagerare ci piacerebbe arrivare a dire che è tutto pronto l'utente controlla e dice ok ancora vogliamo utilizzare argomenti algoritmi di intelligenza artificiale per aiutare i manager delle aziende di capitali a prendere decisioni è il momento giusto per fare un investimento è il momento giusto per chiedere un mutuo in banca o condizioni tali per cui posso avere una prospettiva a 3-5 anni 10 anni tutto questo vogliamo che possa essere possibile nel terreno e addirittura essere motivo per cui qualcuno viene a cercarci e dire vogliamo utilizzarlo ovvio ci sono un bel po' di obiettivi micro e non tanto micro se vogliamo che devono essere coperti funzionalità che devono essere aggiunte se vogliamo ottenere questo tipo di risultato prima di tutto banalmente voglio poter ottenere ordini di pagamento multibanca se arrivo a fine mese ho 100.000 euro di scadenza e ho 5 6 7 banche 8 banche mi piacerebbe che il sistema faccia tutto da solo e mi dia la possibilità di verificare quale sarà il mio cash flow nei prossimi 6 mesi con quasi certezza matematica utilizzeremo gli standard internazionali per la redazione dei bilanci gli AS e i FRS non so se dico bene sostanzialmente basilea ancora ovviamente redazione del bilancio secondo il codice civile italiano il famoso bilancio a partite contrapporse ma andremo a strutturarlo con qualcosa di molto vicino a quello che normalmente il consulente fa a fine anno vorremmo poi avere cruscotti con indicatori delle performance dell'azienda delle performance dello stato patrimoniale avere strumenti tali per cui in un qualunque momento il manager e il CFO dell'azienda sono in grado di sapere come stanno andando le cose ma non oggi o il prossimo mese o i prossimi 6 mesi guardando un budget fittizio ma ipotizzando valori molto vicini a quelle che sarà la realtà e a me se vogliamo fare pagamenti cose automatiche entra anche lui entra anche l'F24 ancora una volta vogliamo avere degli indicatori saremo costretti a simulare il calcolo dei redditi dell'azienda ad avere parametri sufficienti per cui so che la mia liquidità l'anno prossimo sarà di meno 50.000 euro perché le devo usci tutte di IRS questo parametrizzato nel modo opportuno ci darà la possibilità di conoscere e prolungare il tempo il nostro cash flow ovviamente da qui avremo un calcolo del profilo di rischio avremo la possibilità valutazione ecco qua è proprio lento valutazione di alternative di investimento anche qui ha senso investire in tecnologia ha senso investire in un nuovo capannone ha senso investire in nuovi macchinari è più importante lavorare su industria 4.0 piuttosto che sulla formazione del personale avere informazioni prese dai dati aziendali e dalla rete tali per cui ho strumenti per poter prendere meglio decisione ovviamente programmazione e controllo budgeting anche qui se faccio un budget se ho degli strumenti di intelligenza artificiale sono in grado di valutare se il budget che sto preparando ha delle prospettive coerenti con quelle che sono le possibilità future di mercato oggi per fare un lavoro del genere ci devo comunque lavorare un bel po' a valle man mano che avvengono cambiamenti uno controllo il mio budget reale quanto lo sto rispettando due vado a verificare se quello che mi ero fatto se per il cambiamento delle condizioni di mercato le cose andranno diversamente quindi potrei in teoria anche correggere in corso d'opera il mio budget ovviamente non è tutto nel senso che cose più semplici che sono più legate alla localizzazione direi più semplici sotto alcuni punti di vista nel senso che vanno date per scontate perché parliamoci chiaro la liquidazione IVA il calcolo della ritenuta al conto e altre cose è giusto che un amministrativo un contabile di aver scontate ma deve sentire moto di acquisizione di odò proprio per le funzionalità contabili con degli strumenti che gli aiutano lo aiutano fortemente in una migliore gestione dell'azienda ora a me ancora oggi quando racconto questa cosa me la riguardo spaventa per cui li ho definiti impavidi e ci tengo a elencare un po' di persone che sono qui che si impegnano e si impegneranno per tutto quest'anno su questo progetto e alla fine tireranno fuori certo dei numeri certo dei valori sui quali comunque poi ci sarà ancora da fare altro per decidere vedere quanto realmente può essere utilizzato nel mercato quanto può utilizzare meglio la community di quanto magari Odo può decidere di sposare anche solo come idea ovviamente ma queste sono le prime tre persone che io vorrei già ringraziare se non ci fossero state loro tre non vi starei qui a raccontare nulla ci hanno lavorato per un anno forse anche di più va così con la testa Andrea Cometa che è vicepresidente di Apulia Software insieme a Giuditta Nichiarico che è il nostro responsabile delle finanze e il professor Gianluca Elia della facoltà di ingegneria gestionale del Salento per oltre un anno hanno preparato studiato rivisto revisionato il progetto fino a che non è stato approvato alla direzione generale del progetto Valeria Iannone che è il nostro project manager officer meglio conosciuta nella community come la signora del cioccolatino col caffè infatti è già arrivato la dottoressa Giovanna Ciciriello che è project manager all'interno del consorzio Meditech Federico Masi che è PMO per Flowpay e il professor Pontrandolfo e chi sarà il nostro tutor sarà quello che ci dirà se i risultati li abbiamo raggiunti non li abbiamo raggiunti se siamo lontani e se abbiamo diritto poi a prendere un po' del rimborso che loro ci hanno promesso il responsabile funzionale sul progetto è Raffaella Garofalo Raffaella ha una laurea in 110 e lode specializzazione fiscalità nazionale e internazionale quindi la persona giusto al punto giusto al pusto giusto a mio avviso affiancata dall'esperienza ventennale di Mimmalo Console responsabile di sviluppo sul progetto Francesco Cosma anche lui credo non abbia ancora neanche terminato il master in machine learning qui a Milano e comunque ha già sviluppato parecchi progetti con l'intelligenza artificiale rilasciati quasi tutti in Python quindi anche lui con l'esperienza accademica che ci serve per far bene questo lavoro affiancato anche lui dall'esperienza di Nicola Malcontenti che è il nostro responsabile di sviluppo Domenico Caramia e Ciro Orselli sono i nostri sistemisti state attenti sono pericolosi possono prendere possesso dei vostri cellulari e vi si scaricano tutti i telefonini fate attenzione non reagiscono non reagiscono Andrea Bianchi invece è il responsabile di sviluppo per per flopei il professor Antonio Netti dell'università di Bari della facoltà di economia e commercio affiancherà Raffaella nella certificazione che tutti i documenti funzionali rispondono al 100% della normativa nazionali e internazionali e poi vorrei ringraziare Duana Piccino che ha la responsabilità gravosa di estendere comunicazione di tutto quello che avverrà sul progetto ultimi ma non ultimi tutti gli studenti e i tirocidanti che sono stati coinvolti in questo progetto e che ci stanno dando una mano a cercare informazioni a cercare dati a inventarci soluzioni di sviluppo plausibili e funzionanti all'interno del Go i risultati al termine di quest'anno immaginiamo di aver creato un certo numero di database alimentati con qualche decina di migliaia di documenti di aver simulato o importato e qui iniziamo a chiedere aiuto dati reali di transazioni bancarie tale per cui sappiamo che Odo configurato in quel modo può darci le cose in tempi veloci ed efficaci quindi per tutto il 2023 troverete notizie aggiornamenti ed eventi sul sito tutto ciò che faremo è nostra intenzione chiedervi aiuto ogni qualvolta avremo dubbi su funzionalità piuttosto che tipo di risultato impostazione evidenziazione di certe informazioni passeremo di lì apriremo un blog piuttosto che un trade e inizieremo a chiedere riscontro da tutti voi a termine del progetto un evento internazionale presenterà i risultati della ricerca ancora sono previsti due workshop uno dedicato al mondo Odo e l'altro dedicato al mondo della fintech in cui si va a vedere e a provare e a testare con mano la totale integrazione del mondo del banking dell'open banking con il DRP Odo sono previsti da progetto i seminari su tutti gli atenei che sono inclusi all'interno del consorzio Meditec ma ancora di più tutti gli atenei che sono interessati a guardare i risultati e a prendere informazioni di questo tipo come ho già accennato abbiamo bisogno di voi abbiamo bisogno di feedback abbiamo bisogno che ci diciate tutto quello che serve per ottenere questa come dire questo forte trasporto di un eventuale utente amministrativo che sceglie di portare a casa Odo ci serve il contributo anche dei partner di chi vuol fare business Andrea So che ha preparato già un programma di partnership da questo punto di vista spero soltanto che questa cosa nata veramente un po' me la sono raccontata ma comunque in condizioni estemporanee possa destare attenzione ed essere veramente un momento di svolta il passare dall'avere paura di iniziare a parlare delle funzionalità contabile con l'amministrativo con il ragioniere che è abituato a certi software a certe regole a certe cose ad avere un utente fortemente interessato a guardare qualcosa di nuovo che noi proviamo a dargli in mano una soluzione che gli dice guarda se tu adesso passi 4 giorni 5 giorni a farti le quadrature a fine mese piuttosto che fine trimestre o quadrimestre dovrai soltanto guardarti i risultati stampati e poi decidere se ti vanno bene se c'è ancora qualcosa da migliorare grazie a tutti mi avete bloccato con sta storia della riga non mi riuscivo più a muovere mi sentivo proprio ok recuperato il microfono grazie Giuseppe cometa è ridistratto non va bene ti interrogerò allora se ci sono intanto il sito non era quello lì mi ha sbagliato il sito partiamo proprio bene ma si può sì sì le hai riviste forse sì va bene ma non solo anche anche la nostra social media manager come mai non se ne è accorta il bar me ne sono accorto io ma il QR code è da più ok perfetto va bene se dalla regia mi proiettate lo schermo con le domande sì così vediamo se intanto arrivano domande dal pubblico non vedo domande bene non vi interessa va benissimo perfetto siamo partiti proprio di giusto no io magari ne approfetterei abbiamo qualche minuto prima della pausa caffè aggiungi qualche dettaglio sulla parte tecnica per far comprendere come il tutto è slegato dalle singole e variegate istanze di odù allora l'idea è un po' quella classica la maggior parte degli applicativi che hanno i consulenti commercialisti si collega direttamente all'agenzia delle entrate per prendere i documenti non si capisce perché non debba farlo odò per cui io posso anche permettermi lasciatemi questa fantasia di avere un odò in cui il cliente sta facendo le sue cose in tutta tranquillità ma a quel punto l'utente può accedere alla parte al modulo che lo collega all'odò smart account e ritrovarsi tutto perfettamente registrato farsi le riconciliazioni lì ritrovarsi tutto in linea è un po' questa l'ottica ovviamente è sempre odò allora il prodotto finito sarà un prodotto che ripendete o rimarrà in osiei e chi ha parlato di prodotto allora pensiamo che ci sarà un prodotto pensiamo che possa essere venduto come servizio la vediamo complessa come installazione su ogni stanza perché se dobbiamo tenerci slegati è un po' dura pensiamo che sia molto più facile che ci siano dei moduletti che vengono installati di collegamento tra una qualunque istanza o dove a quel punto possiamo immaginare che siano le ultime quattro ecco dalla 12 alla 16 io installo un modulo che mi attiva diciamo così l'interfaccia e la sincronizzazione tra i due sistemi e a quel punto tutto mi funziona altra domanda la crisi d'impresa che è un obbligo di legge sarà presente in futuro e perché no intanto portiamoci a casa questi risultati dopodiché quando sarà pronto ribadisco l'intero 2023 e per tutto questo periodo ci servirà il vostro aiuto ci serviranno contributi di idee contributi di righe di codice magari piuttosto che contributi su eventuali ecco ipotesi di funzionalità aggiuntive che al termine del progetto ricerca potremmo andare a implementare non abbiamo ancora definito perfettamente un eventuale modello di business anche se immaginiamo che buona parte del lavoro che andremo a fare sarà utilizzabile dagli utenti ultima domanda è un'affermazione va bene le domande sono terminate di fatto ho proiettato il sito con l'URL corretto grazie Giuseppe odù Italia a fianco delle imprese italiane di